Oggi vi parlo di Kick Hero Avete presente Oli e Benji? Bene, questo titolo non c'entra niente Ma bensì è un semplice titolo che ha a che fare col calcio Scopo del gioco è ammazzare ondate di bulli che cercheranno di farci la pelle a suon di pallonate La meccanica così semplice e intuitiva da essere a sue facente Persino Salvini saprebbe giocarsi La meccanica di gameplay è tanto semplice quanto a sue facente Noi dobbiamo semplicemente tacciare lo schermo in un punto qualsiasi nel momento giusto affinché il nostro personaggio tiri la pallonata sul bullo di turno La difficoltà è tutto nel beccare la tempistica come una specie di ritmo in game Qui alla redazione ci giochiamo da mesi e non siamo ancora riusciti a finirlo per quanto è difficile Come si dice, easy to learn, hard to master Questo titolo oltre ad avere questa meccanica così semplice ha anche degli sbloccabili che possono essere sbloccati giocando o pagando Questi sbloccabili sono delle skin del nostro personaggio che rimandano alle grandi icone storiche del calcio mondiale Che altro dire, se volete un gioco semplice, appagante, a sue facente da giocare sulla vostra tazza del cesso scaricate Kick Hero Non ve ne pentirete Ancest respeno Questa prof Ciao Carne Questa dirige Questa madre